Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook e vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di cui vi parlo oggi ha sconvolto la California degli anni 80 e ha come simbolo l'inganno rivolto ai più giovani per spingerli verso crimini impensabili. Dietro una confessione che sembrava chiudere la vicenda, dietro una storia ridotta ai conflitti familiari, si celavano invece segreti, manipolazioni e un intricato piano orchestrato da qualcuno di insospettabile. Cinnamon Darlene Brown nasce il 3 luglio 1970 all'Arbor General Hospital di Torrance in California. I suoi genitori si chiamano Brenda Sands e David Brown e si incontrano da adolescenti nel sud della California. Quando Brenda rimane incinta di David ha appena 17 anni, ma questa giovane coppia è innamorata e desidera sposarsi. I loro genitori però devono dare il consenso legale prima che i due ragazzi possano convolare a nozze. La bambina nasce alcuni mesi dopo e la famiglia si stabilisce a Long Beach in California. David adora sua figlia e insieme a Brenda decide di darle un nome insolito, ovvero cinnamon che, tradotto in italiano, significa cannella. È convinto che un giorno la piccola diventerà famosa, quindi vuole che abbia un nome unico e ben identificabile. In realtà dal punto di vista di David non è così bizzarro pensare che sua figlia sia speciale, perché anche lui è sempre stato convinto di esserlo. David è nato nel 1952 a Phoenix in Arizona, è il sesto di otto figli. Suo padre Arthur Brown faceva il meccanico e lavorava giorno e notte per provvedere al benessere della sua numerosa famiglia. Manuela, la madre di David, si occupava di accudire la prole, gestiva quindi la casa e i bambini e secondo David lo faceva col pugno di ferro. A suo dire la madre era egoista, controllante, avida e dotata di una vena meschina. Spesso era addirittura violenta nei confronti sia di suo marito che dei suoi figli. Arthur Brown, invece, era un uomo tranquillo che generalmente si sottometteva all'opinione di sua moglie, più estroversa e schietta. Non era certo un segreto che David non approvasse i comportamenti di suo padre e sua madre. Lui caucasico, lei ispanica. In particolare, David non ha mai riconosciuto la cultura di Manuela come la propria e faceva spesso commenti sprezzanti sugli ispanici. Li criticava apertamente oltre a prenderli in giro. Crescendo, aveva iniziato pure a tormentare sua madre sull'argomento. La sua famiglia apparteneva a una classe sociale medio-bassa e David aspirava da sempre a diventare qualcosa di più nella vita. Negli anni 60 si era trasferito nella California meridionale. Era un ragazzino intelligente e a scuola otteneva voti discreti, anche se aveva perso molte ore di lezione perché spesso era malato. David in realtà era ipocondriaco e fin da bambino si lamentava costantemente, sostenendo di essere affetto da vari disturbi. Da adolescenti aveva addirittura affermato di avere un cancro e detto alle persone che gli stavano vicine di essere in fin di vita. Bugia che continuerà a raccontare per i successivi 20 anni. Sembrava che si sentisse superiore rispetto ai suoi compagni di classi e ai suoi coetanei in generale, ma la verità è che David aveva un'autostima molto bassa e cercava di entrare in contatto con persone che fronteggiavano delle gravi difficoltà per accarezzare il proprio ego. Come un eroe si precipitava dagli sfortunati per salvarli, ma poi si aspettava in cambio completa lealtà e devozione. A 14 anni aveva abbandonato la scuola per svolgere dei lavori umili e provvedere a se stesso. Lavorava in un bar e presso una stazione di servizio. Prendeva poco in considerazione i suoi genitori e i suoi fratelli. Li contattava solo quando aveva bisogno di qualcosa. I suoi due interessi principali erano le donne e il denaro. Voleva fare quanti più soldi possibili. Brenda Sands è la prima ragazza con cui David ha una relazione seria. Si sono incontrati all'età di 15 anni e sono diventati inseparabili. Brenda non aveva avuto un'infanzia facile. Lei e la sua famiglia vivevano quasi in condizione di povertà e lei è la maggiore di 11 fratelli. Brenda spesso fuggiva di casa e a 16 anni scappa proprio insieme a David, sopravvivendo grazie a lavori saltuari. È Brenda che guadagna i soldi per mantenere se stessa e il fidanzato, mentre David pare spesso troppo malato per lavorare. Assume tanti farmaci da banco perché a suo dire gli era stata diagnosticata una lunga lista di malanni. Allergie, bronchiti, malattie respiratorie costanti. Dopo che Brenda e David si sposano e nasce Cinnamon, la coppia fa domanda di assistenza governativa per ottenere un sostegno economico che consenta loro di mantenere la casa in cui abitano e pagare le spese per la neonata, come i pannolini. David, in qualità di beneficiario dell'assistenza sociale, ha anche diritto a un programma di incentivi al lavoro che offre delle informazioni professionali gratuite. Nel 1971 viene iscritto al Control Data Institute e riceve la formazione per lavorare al computer. David è un bravo studente, apprende velocemente e diventa piuttosto esperto nel suo lavoro. Dopo aver completato la formazione viene assunto dalla società di computer RandomX. Anche Brenda trova lavoro in un ufficio come segretaria. Sembra davvero che la famiglia stia lavorando duramente per costruirsi un futuro. E la bambina viene descritta come gioiosa, socievole, estroversa e gentile. Tuttavia, ahimè, questa situazione di armonia non va avanti per molto. Un giorno dopo il lavoro, David torna a casa e dice a Brenda che vuole parlarle. Le chiede il permesso di uscire con altre donne mentre sono sposati. Brenda chiaramente glielo nega. Ma a David, secondo voi, interessa l'opinione di sua moglie? Purtroppo no. Proprio no. David, a quanto dice, considera Brenda come la sua anima gemella. Eppure, questo non gli impedisce di intrecciare diverse relazioni con altre donne. Allo stesso tempo, David è eccessivamente controllante e possessivo nei confronti di Brenda. Non le permette di guidare e raramente la lascia uscire di casa da sola. Quest'uomo, per tutta la sua vita, segue una sorta di schema. Prima si innamora perdusamente di una donna e la tratta con affetto e riguardo, ma poi, col tempo, diventa sempre più possessivo e controllante. Quando si rende conto che la donna di cui si è innamorato è assoggettata al suo controllo, allora si stanca della relazione e inizia una nuova storia senza nemmeno troncare quella precedente. Una cosa è certa, punta sempre a conquistare donne più giovani e comincia una frequentazione con Lori Carpenter, che ha tre anni meno di lui. Un giorno, quando si innamora circa quattro anni, David rincasa e consegna a Brenda i documenti per il divorzio. Ma non solo, vuole pure la custodia della bambina. Brenda si rifiuta di firmare i documenti, convinta che David sia coinvolto nell'ennesima avventura che, come le altre relazioni, finirà presto. Ma suo marito va su tutte le furie e diventa minaccioso, al punto che Brenda comincia a temerlo. Ha paura che David la soffochi nel sonno. Così un giorno prende Cinnamon e si allontana mentre il marito è al lavoro. Dopodiché lui, infuriato, si presenta sul posto di lavoro di Brenda e le punta una pistola alla testa minacciandola di morte. Dopo questo gesto a dire poco folle e violento, è Brenda che chiede il divorzio e lo ottiene. In tribunale, David prova a ottenere la custodia di Cinnamon, ma la corte si pronuncia a favore di Brenda, quindi lui potrà incontrare sua figlia solo nei fine settimana. Questa decisione causa in David una forte depressione con tendenze suicide. Naturalmente è Brenda a occuparsi di Cinnamon durante la settimana. È lei che si occupa di prepararla per la scuola materna, è lei che cerca di indirizzare la piccola verso uno stile di vita sano ed equilibrato, partendo da ciò che la bambina mangia. Brenda vuole che sua figlia si nutra con una dieta ricca di verdure, anche se Cinnamon la considera una grande scocciatura. Insomma, perché deve sforzarsi di mangiare del cibo che non le piace? La bambina, fin da quando è molto piccola, inizia a considerare sua madre come una rompiscatole e le due si scontrano spesso. David si occupa di Cinnamon solo nel fine settimana, non deve lavorare duramente quanto Brenda per prendersi cura della figlia. Così la porta ovunque lei voglia e le fa mangiare quello che desidera. Spesso il McDonald's. È chiaro che Cinnamon preferisce la compagnia di suo padre rispetto a quella di sua madre. Intanto David si riprende in fretta dalla depressione e sposa la 19enne Lori. Il matrimonio tra i due però dura poco, circa un anno, perché David conosce un'altra ragazza di cui diventa ossessionato. Lascia quindi la sua seconda moglie per una ragazzina, la 13enne Linda Bailey. Linda è esattamente come Brenda, proviene da una famiglia numerosa. Sua madre Ethel Bailey ha 11 figli, 7 dei quali vivono ancora a casa. La donna li cresce da sola e riesce a malapena sbarcare il lunario. Non ci sono soldi extra e anche un pasto al fast food è un lusso fuori dalla portata della famiglia. Quando David, che abita nella stessa via dei Bailey, offre dei soldi a Ethel affinché le sue figlie gli puliscano la casa, sembra che una manna sia scesa dal cielo. David, che appare pallido e malaticcio, spiega alla donna che sta morendo di cancro al colon. Per questo ha bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle faccende domestiche. Così la 15enne Pam Bailey e la sorella 13enne Linda iniziano a guadagnare qualche dollaro sbrigando faccende domestiche e commissioni per David. Ma lui ha piani ben più sottili. Ancora prima che l'inchiostro si asciughi del tutto sul suo documento di divorzio relativo al secondo matrimonio, sta già uscendo con la 15enne Pam di 9 anni più giovane di lui. Però il vero obiettivo di David è la 13enne Linda, con la quale inizia una relazione segreta. Non è così difficile per David impressionare queste giovani sorelle usando qualche soldo, dato che loro vivevano in povertà e senza alcun modello maschile di riferimento. David ha due aspetti a suo favore, un ottimo lavoro e una buona parlantina. Come si suol dire, David avrebbe potuto vendere del ghiaccio agli schimesi, sa come ottenere quello che vuole e, anche se ripete di essere già con una gamba sul letto di morte, ha una voce forte e squillante. Con le sue chiacchiere attira le ragazze giovani e vulnerabili che ha scelto come sue devote. David addirittura mette alla prova la lealtà di Pam e Linda, indirizzandole verso piccoli crimini. Chiede alle due adolescenti di sgattaiolare di notte fuori da casa per rubare degli attrezzi da alcuni camioncini. Che avanti pretenderà una prova di fiducia anche da sua figlia Cinnamon, che dovrà rubare piccoli oggetti nei negozi. Quando Linda compie 15 anni, David mette fine alla sua relazione con Pam e inizia a frequentare apertamente la sorella più piccola. Linda è la settima figlia di Ethel Bailey, ha anche quattro sorelle minori. Suo padre Clyde aveva messo al mondo sei figli con Ethel, prima di sparire nel nulla senza più interessarsi della famiglia. Linda, che ha pure un fratello gemello di nome Alan, è una ragazza dai capelli biondi, intelligente e sicura di sé. Molti ragazzi vogliono uscire con lei, ma da quando David entra nella sua vita, Linda non ha occhi per nessun altro. La ragazza, pervasa dall'amore, convince sua madre a darne il permesso di sposare David all'età di 17 anni. I due convolano a nozze a Las Vegas nel 1979, quando David ha 27 anni. Poi, per ragioni poco chiare, David cambia idea e a solo un mese dal matrimonio caccia Linda via di casa sostenendo sia troppo immatura. Linda, di conseguenza, torna alla sua precedente abitazione, mentre David lascia il posto di lavoro alla Randomex e inizia una nuova carriera alla Memorex. Guadagna uno stipendio più elevato e si diverte a spendere soldi per Linda e Pam, che sono così facili da impressionare. Compre loro tanti vestiti e in un'occasione le porta pure a Disneyland. Dopodiché, David cambia di nuovo lavoro. Lascia la Memorex per fondare una propria azienda, la Data Recovery, siccome ha sviluppato un processo per recuperare i dati degli hard disk danneggiati. Alla sua impresa viene attribuito il merito di aver salvato le informazioni archiviate sui computer deteriorati dall'incendio dell'MGM Grand Hotel di Las Vegas nel 1980. Dopo aver divorziato anche da Linda, David frequenta una donna di nome Cindy. Il suo cognome non è noto, dato che lo stesso David afferma di non ricordarlo. Cindy ha già avuto due figli da una relazione precedente, ma David non vuole essere il loro patrigno, accudirli. Così la coppia divorzia dopo soli otto mesi di matrimonio. Mentre è ancora sposato con Cindy, David vede segretamente la sua ex moglie Linda. Così, appena il divorzio tra David e Cindy diventa effettivo, l'uomo risposa Linda, che inizia a lavorare per lui. Linda apprende il processo di recupero dati degli hard disk danneggiati e contribuisce a gestire l'attività, diventando anche lei artefice del suo successo. Probabilmente vi starete chiedendo quanto fosse corretta quella diagnosi di cancro terminale riconosciuta a David. Ebbene, in procinto di sposare Linda per la prima volta, David aveva fatto un annuncio all'intera famiglia Bailey. Era riuscito a sconfiggere il cancro. Questo sì che era un vero miracolo. I dottori gli avevano detto che il tumore avrebbe potuto ripresentarsi, ma lui era ottimista. Sentiva che avrebbe vissuto più a lungo di quanto inizialmente sperato. Nel 1981 David e Linda vivono un periodo in cui stanno davvero bene insieme. La loro storia va a gonfie vele. Si sono trasferiti in una casa in affitto nella contea di Orange, in California, ma poco dopo si sono sposati in un'abitazione più grande. Una delle sorelle minori di Linda, Patty, va a vivere con loro. Patty Bailey ha cinque anni in meno di sua sorella Linda. Quando aveva iniziato a frequentare la casa dei Bailey, Patty aveva otto anni. La ragazza pensa da sempre che David sia una persona meravigliosa. Lui è il primo uomo che ha mostrato alle sorelle una premura costante. Quando sua sorella maggiori Linda ha sposato David, Patty ha provato gelosia. Anche lei sogna di diventare una sposa un giorno e pensava che David sarebbe stato il marito perfetto. Così, quando David dà maggiori attenzioni a Patty, lei è davvero emozionata. Pensa che David non possa fare nulla di male a nessuno, ma in realtà molte delle decisioni di quest'uomo sono completamente sbagliate. Sono sbagliati, in primo luogo, i suoi tentativi di intrecciare relazioni intime con delle ragazze appena adolescenti, approcci che lo caratterizzano quando lui ha tra i 25 e i 30 anni. Ha sposato Linda e subito dopo l'ha tradita con altre donne, persino con la sorella di sua moglie. Quando Patty aveva 11 anni, David l'aveva fatta sedere sulle sue ginocchia e le aveva detto quanto fosse carina e intelligente. Aveva aggiunto un giorno sarai bella come tua sorella Linda, o forse di più. Patty adorava l'attenzione che le stava riservando David, un uomo che, a differenza di suo padre, non aveva abbandonato la moglie e le figlie. In particolare, Patty all'epoca era solo una bambina, quindi non ricordava molto di lui, non sapeva nemmeno dove fosse andato. Sapeva soltanto che era originario della Pennsylvania. Una volta, Patty aveva detto a un insegnante che suo padre era in ospedale, ma non sapeva dove fosse ricoverato esattamente e nessuno glielo voleva dire. Patty è descritta come la sorella Bailey più tranquilla e seria, raramente sorrideva o chiacchierava e spesso passava inosservata. David, un predatore di ragazze giovani, aveva capito subito la sua vulnerabilità e l'aveva sfruttata. Le aveva promesso che un giorno l'avrebbe sposata, quando sarebbe diventata abbastanza grande. Patty, quando più avanti parlerà di David, dirà, mi trattava in modo speciale, mi diceva che era una brava ragazza, mi comprava tanti vestiti che mi facevano stare bene con me stessa. David inizia una relazione intima anche con Patty, quando lei ha 15 anni. Patty, dal canto suo, è convinta che David l'ami e sempre in seguito affermerà che il comportamento di David, ai suoi occhi, era normale. Dunque, quando la ragazza lascia la casa di sua madre per trasferirsi da David e Linda, l'uomo si sta già sfregando le mani. Il trio, alla fine, si sposta e si stabilisce in una casa in affitto nella città di Garden Grove, sempre nella Contea di Orange. Patty, per la prima volta nella sua vita, ha una camera tutta sua, un armadio pieno di vestiti e un nuovo set di lenzuola per il suo letto. È più felice che mai, tuttavia continua a essere gelosa perché è sua sorella Linda, la moglie di David. Cinnamon, la figlia di David, ha soltanto tre anni in meno di Patty e, anche lei, periodicamente va a stare nella casa che il padre condivide con Linda e Patty quando sua madre Brenda non c'è. David si rivolge a lei chiamandola Sinny. Sua figlia è una ragazzina minuta, alta poco più di un metro e mezzo, ma dà il carattere vivace, è estroversa e chiacchierona. Al contrario, come detto, Patty è tranquilla, riservata e solitaria. A dirla tutta, Cinnamon a volte dà sui nervi a Patty perché parla tanto, canta squarciagola e fa battute sarcastiche che Patty non capisce. Inoltre, a Patty non piace condividere l'attenzione di David, né con sua sorella, né tantomeno con Cinnamon. Tuttavia, in alcuni momenti, le ragazze si divertono tutte insieme e restano alzate fino a tardi a guardare film, ascoltare musica e spetticolare. Cinnamon nella casa di suo padre non ha una stanza tutta sua, ma condivide la camera con Patty, dormendo su un secondo letto estraibile. A Cinnamon non importa di essere praticamente un ospite nella casa di suo padre, perché lei ama passare più tempo possibile con lui. Cinnamon e la sua matrigna Linda non sono poi così tanto legate, ma almeno per la maggior parte del tempo vanno d'accordo. Tuttavia, qualcosa cambia. David si dimostra insoddisfatto anche del suo secondo matrimonio con Linda. Lei ha ormai 21 anni e forse sta diventando troppo vecchia per il 31enne David. Probabilmente vuole sostituirla con la sorella più giovane, Patty, che a questo punto ha 16 anni. Nel 1983 David inizia a lamentarsi della moglie con Patty, raccontandole che Linda sta cercando di estrometterlo dall'attività di recupero dati che aveva avviato lui. Spiega che Linda e suo fratello Alan stanno cercando di rilevare la sua azienda da diversi mesi. David convince Patty del fatto che Linda non si fermerà davanti a niente pur di prendere il controllo della sua impresa e delle sue finanze. Si spinge a dirle che Linda e Alan potrebbero persino ucciderlo, dato che hanno legami con la mafia. Patty purtroppo crede a David ed è spaventata perché lui le ha fornito un tetto stabile sulla testa e perché è innamorata di lui da anni. La sua ansia non fa che aumentare quando David rincasa dal lavoro pronto a raccontarle altre storie sui loschi affari che avverrebbero alle sue spalle, a opera di sua moglie e del suo gemello. In autunno, verso la fine del 1983, Cinnamon trascorre più tempo a casa di suo padre David. Intanto Linda scopre di essere incinta della prima figlia, nonostante le tensioni con il marito. Cinnamon è emozionata per l'arrivo della sua sorellastra, Crystal, che nasce nel luglio del 1984. Fa avanti e indietro tra la casa di sua madre ad Anaheim e quella di suo padre a Garden Grove. Anche Brenda, la madre di Cinnamon, si risposa con un uomo di nome Terry e la coppia mette al mondo una bambina, Penelope. Tra Cinnamon e sua madre nascono quelle tensioni che possono aver luogo tra qualsiasi madre e una figlia adolescente. Poi, quando Cinnamon inizia a frequentare la scuola superiore, la situazione è aggravata dalla sfida di vivere in una famiglia allargata e dal fatto che alla ragazzina piaccia il suo patrigno. David, dal canto suo, da tempo aveva convinto la figlia di essere il suo eroe, persino competendo con Brenda per l'amore di Cinnamon. E lei, forse per dimostrare una certa lealtà a suo padre, comincia a sfidare le regole presenti in casa di sua madre più del solito. Questo porta Brenda e Cinnamon a discutere maggiormente ogni giorno. Così, nell'estate 1984, viene concordato che Cinnamon si sarebbe trasferita da suo padre, Ilinda, per poi iscriversi a una scuola di Garden Grove in autunno. In poco tempo, David inizia a raccontare anche a Cinnamon dei suoi guai riguardo alla moglie e al presunto progetto losco per accaparrarsi la sua attività. David, Patty e Cinnamon affrontano diverse discussioni sull'argomento nei mesi successivi. David dice alle ragazze che teme per la sua vita. È convinto che Ilinda e suo fratello Alan avessero organizzato un piano per eliminarlo, al fine di ottenere il controllo della sua azienda, che continua a prosperare e a produrre un ottimo reddito. Insomma, David ripete alla figlia e alla cognata di essere in pericolo di vita. Avrebbero potuto ucciderlo in qualsiasi momento. Dunque, l'unica soluzione per uscire da questa situazione è lasciare la città. Devono trasferirsi lontano per nascondersi. Sia Patty che Cinnamon sono terrorizzate all'idea di perdere David. Da lui si sentono amate e protette. Le ragazze si convincono che Ilinda stia minacciando la loro stabilità e che voglia davvero fare del male o addirittura uccidere David. Ilinda ora è impegnata con la piccola Christa alla casa. Allora David porta Patty e talvolta Cinnamon con sé al lavoro. Mentre guida per raggiungere il suo ufficio, David discute con le ragazze di come sbarazzarsi di Linda. Le incoraggia persino a trovare dei modi per ucciderla. I loro due formulano delle ipotesi, ma sono convinte che sia solo un gioco. Ipotizzano di soffocarla con un cuscino o di fingere che sia stata vittima di una sparatoria accidentale o di fulminarla facendo cadere il phon acceso nella vasca mentre Linda sta facendo il bagno. Cinnamon ride di gusto di quest'ultima idea ricordando a Patty e a David che Linda fa sempre solo la doccia. Solo a questo punto le ragazze si rendono conto che David è serio. Lui dice che non ci sono alternative. Se Linda vive significa che lui morirà. Ha davvero bisogno di sbarazzarsi della madre della sua seconda figlia prima che lei lo uccida. Cinnamon e Patty perplesse provano a suggerire dei modi alternativi per proteggere David. Perché non mette fine al matrimonio con Linda per esempio. Cinnamon ricorda il padre che ha già divorzato diverse volte quindi qual è il problema? David però boccia quest'idea dicendo che Linda ormai conosce perfettamente il processo che lui ha inventato per il recupero dati quindi lo userebbe per iniziare una propria attività. Inoltre se divorziasse dovrebbe pagare il mantenimento per lei e per la bambina quindi si ritroverebbe addirittura senza soldi per provvedere a se stesso. David, Cinnamon e Patty concludono che sparare a Linda è il piano omicida più semplice da portare a termine. Però avrebbe dovuto eseguirlo una delle due ragazze perché David non ha abbastanza peli sullo stomaco per farlo. Patty nonostante Linda sia sua sorella forse ha interesse a eliminarla perché lei si è accorta della sua cotta per il marito ed è molto infastidita. Quell'estate mentre Linda era incinta sua sorella di 16 anni aveva sfilato in pantaloncini e pezzo superiore del bikini davanti a David. Linda si era arrabbiata e aveva provato a rispedire Patty a casa della loro famiglia a Riverside ma David l'aveva riportata indietro. Aveva detto a Linda che sapeva tutto. Sì, Patty aveva una cotta per lui ma le aveva parlato dicendole di farsi da parte, di non provarci più con lui. Linda però per quanto si sforzi fatica a credere a David così si confida con una sua amica. Sospetta che la sua sorellina Patty stia avendo una relazione con il marito per cui sta cercando di convincerla ad andare via. Ma ora David vuole mettere in atto il suo piano per sbarazzarsi della moglie. Ha raggiunto il suo obiettivo. Sa che Patty e Cinnamon lo aiuteranno a far fuori Linda. Nel 1984 effettuano un primo tentativo. David sveglia Patty e le consegna una pistola dicendole di andare in camera da letto mentre Linda dorme e di spararle. Patty raggiunge la porta della stanza padronale, vede sua sorella che giace addormentata mentre David è nascosto dietro la porta. Patty solleva la pistola ma non riesce a premere il grilletto. Piangendo restituisce l'arma a David e corre via chiudendosi nella sua stanza. Linda è pur sempre sua sorella insomma le vuole bene in fondo. Nel frattempo David si sta già progettando la nuova vita senza Linda. Acquista diverse polizze assicurative sulla vita per sua moglie tra cui una con doppio indennizzo da 100.000 dollari e altre due dal valore di 200.000 dollari ciascuna. Se Linda morirà David potrà riscuotere oltre 800.000 dollari. Siccome è evidente che Patty non porterà mai a termine il piano David spiega a Cinnamon che deve occuparsene lei. Siccome ha solo 14 anni non finirà in prigione se ucciderà Linda ma le prescriveranno delle cure psichiatriche e rimarrà in una clinica per un breve periodo poi la rimanderanno a casa. David promette a sua figlia che rimarranno insieme per sempre se lei farà questo sacrificio per lui. Arriva il giorno in cui David e Cinnamon parlano seriamente di questo diabolico piano. David manipola sua figlia chiedendole tu mi vuoi bene? Cinnamon lo rassicura certo che gli vuole bene così David aggiunge mi vuoi bene abbastanza da fare qualsiasi cosa per me? Cinnamon non risponde allora David la incalza dicendo che se non lo aiuterà lui se ne andrà non la porterà con sé e lei non lo vedrà mai più. Cinnamon scoppia a piangere disperata lo prega di non lasciarla sola. David quindi riprende a chiederle beh allora come mi aiuterai? Cinnamon però ha bisogno di capire chiaramente cosa le sta chiedendo suo padre lo guarda e domanda incredula vuoi che la uccida? Suo padre le risponde voglio che tu mi aiuti. Sì se hai il coraggio di farlo voglio che tu la uccida. Conclude la conversazione dicendo se mi vuoi bene ti fiderai di me. Credi solo a quello che ti dico io sono tuo padre e so qual è la cosa migliore da fare. Cinnamon sente la voce di suo padre riecheggiare nella sua mente mentre è in piedi davanti alla sua matrigna Linda con la pistola in mano. La ragazzina preme il grilletto. David gli aveva ordinato di mettere un cuscino sull'arma per attutire il suono dello sparo ma dopo il primo colpo il martello della pistola rimane incastrato nel cuscino. La ragazzina è assalita dal panico perché ha chiaramente sbagliato qualcosa così torna nella camera da letto di Patty che la sta aspettando. La diciassettenne intanto sta tenendo in braccio Crystal la figlia di Linda e David che ora ha otto mesi. Le ragazze provano insieme a sfilare la pistola che si stacca dal cuscino. Parte un colpo che manca la bambina solo di pochi centimetri. Il proiettile si conficca nel muro della camera da letto. Poi dopo che il rombo dello sparo si dissolve si sentono i gemiti e il pianto di Linda provenienti dall'altra stanza. Ancora in preda al panico Patty porge di nuovo la pistola a Cinnamon dicendole di tornare nella camera padronale. Cinnamon ha sparato alla matrigna sull'addome appena sotto il petto e ora è di nuovo davanti a lei. Linda è accasciata sul letto. Cinnamon spara per la seconda volta e alle 3.30 del mattino David Brown effetta una chiamata di emergenza al dipartimento di polizia di Garden Grove. Sembra sconvolto in lacrime si inghiozzando dice penso che qualcuno abbia sparato a mia moglie. Quando l'ufficiale arriva a casa di David l'uomo lo attende sulla porta. Patty è lì vicino e sta tenendo in braccio la bambina. David spiega di essere uscito di casa quella notte per evitare di assistere ai continui litigi tra sua moglie e sua figlia maggiore. Pensa infatti che sua moglie sia stata uccisa dalla primogenita. Lui però non ha avuto il coraggio di entrare nella stanza per controllare come sta Linda perché non sopporta la vista del sangue. L'ufficiale allora si dirige nella camera e sente un rantolo provenire dalla giovane donna sdraiata faccia in giù nel letto e immersa in una pozza di sangue. Non è ancora morta ma il medico legale dichiarerà dopo l'autopsia che era troppo tardi per salvarla a causa della quantità di sangue che aveva perso. Linda è deceduta a causa di due ferite d'arma da fuoco una inferta al petto e l'altra all'addome. Le hanno sparato con una calibro 38 ed è morta dissanguata. Cinnamon intanto non è più in casa viene quindi trasmessa una sua descrizione alle unità investigative dell'omicidi. Quando i detective sopraggiungono per esaminare la scena del crimine e interrogare i testimoni David sta piangendo disperato. Gli agenti si chiedono se abbia bisogno di essere portato in ospedale perché sembra molto fragile. Al contrario Patti la sorella della vittima è isterica non riescono a ottenere quasi nessuna informazione da lei a causa delle condizioni in cui versa. I genitori di David, Arthur e Manuela arrivano a casa sua a Garden Grove dopo essere stati informati della sparatoria. Mentre si prendono cura della piccola Crystal David e Patti rilasciano le loro dichiarazioni alla polizia. Il giorno seguente al sorgere del sole il detective Fred McLean ispeziona nuovamente i dintorni della proprietà. Nel cortile sul retro c'è un recinto per cani con una cuccia di grandi dimensioni. Quando il detective si china per guardarci dentro nota che c'è una giovane ragazza rannicchiata all'interno. Quella è Cinnamon. Fred McLean la convince a uscire dal nascondiglio e nota che l'adolescente si è vomitata e urinata addosso. Il rigurgito è di uno strano colore rosso brillante. Inoltre Cinnamon stringe tra le mani un pezzo di carta avvolto in un cartone chiuso con un nastro. Quando più tardi gli agenti aprono il biglietto trovano scritto caro dio per favore perdonami non volevo farle del male. Cinnamon viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata ma poco dopo gli investigatori si rendono conto che ha problemi di natura medica quindi la sospettata viene trasportata in ospedale. Cinnamon va in coma e attraverso l'analisi del sangue i medici scoprono che aveva assunto dosi massicce di antidolorifici oppiacei. È ancora viva solo perché ha vomitato parte di tutte quelle pillole ingerite. Tuttavia prima che Cinnamon Brown perdesse conoscenza è riuscita a rispondere ad alcune domande dei detective. Ha confessato di aver sparato alla matrigna, si è assunta la piena responsabilità del crimine e non ha coinvolto nessun altro. Poi quando i detective le hanno detto che Linda è morta, Cinnamon è apparsa sinceramente sorpresa. È morta o no? Ha esclamato prima di scoppiare a piangere. La ragazza ha spiegato agli investigatori che lei e Linda avevano litigato animatamente perché la sua matrigna voleva che se ne andasse via. Era stanca di averla attorno. Cinnamon riferisce di aver trovato la pistola nell'ufficio di suo padre. Aveva sparato a Linda perché era arrabbiata con lei. Sapeva bene che la matrigna la odiava. In ospedale Cinnamon si riprende completamente, dopodiché viene accusata di omicidio di primo grado e poi processata in un tribunale minorile della California nell'agosto 1985. Dovete sapere che nel sistema giudiziario minorile della California non è prevista la presenza di una giuria ma sarà un solo magistrato che dopo aver valutato ogni elemento sul caso raccolto ed esposto prenderà una decisione e pronuncerà la sentenza. Il procuratore distrittuale della Contea di Orange, Jeffrey Robinson, spiega alla corte che Cinnamon aveva ucciso la sua matrigna a sangue freddo perché era una ragazzina depressa e rabbiosa. Cinnamon si dichiara non colpevole per infermità mentale e il suo avvocato chiede supporto a diversi testimoni esperti, i quali confermano che Cinnamon non era in grado di intendere e di volere al momento dell'omicidio. La ragazza sostiene di non ricordare quasi nulla della notte in cui Linda era stata uccisa tanto che nega pure di aver confessato l'omicidio e si spinge ancora oltre dicendo di non credere che Linda fosse davvero morta. L'avvocato che assiste l'imputata assume anche uno psicologo clinico che intervisti suo padre e altri membri della famiglia per cui loro devono prepararsi al processo. David però parla principalmente di se stesso ed elenca una serie di disturbi medici da cui sarebbe affetto. Ipertensione, ulcera del colon, varie allergie, bronchite. Racconta anche dei propri genitori, parla in modo entusiasta di suo padre mentre dice di odiare sua madre descrivendola come crudele e violenta. David afferma di aver tentato di togliersi la vita più di una volta e di essere stato ricoverato in ospedale in diverse occasioni. In colpa alle donne della sua famiglia per le sue angosce, in particolare sua madre e la sua prima moglie Brenda. Altri testimoni intervengono per dire che Cinnamon era una ragazza felice, andava d'accordo quasi con tutti e non sembrava ci fossero chissà quali problemi tra lei e Linda. Certo aveva vissuto un periodo di instabilità quando si spostava tra la casa della madre e quella del padre. Alcuni membri della famiglia ritengono che Cinnamon avesse un disperato e costante bisogno dell'amore e dell'attenzione di suo padre. Per David invece la situazione peggiora in quanto le sue ex mogli e altre persone che lo conoscono lo descrivono come un uomo controllante e prepotente con le donne che facevano parte della sua vita. Ad esempio proprio Linda senza David non poteva andare da nessuna parte mentre Cinnamon e Patty non potevano né invitare degli amici a casa né dare il loro numero di telefono agli estranei. L'uomo proibiva le ragazze di uscire o socializzare con dei ragazzi. Tuttavia David Brown non ha precedenti penali e gli investigatori non sono riusciti a trovare prove che lo colleghino all'omicidio di sua moglie Linda. David come ricorderete aveva predetto alla figlia che se lei avesse ucciso la matrigna per fargli un favore sarebbe stata mandata in un ospedale psichiatrico solo per un breve periodo ma poi l'avrebbero rilasciata e sarebbe tornata a casa. Ebbene con questa previsione si sbagliava. Infatti il 13 dicembre 1985 il giudice stabilisce che l'omicidio di Linda è stato commesso con premeditazione e condanna Cinnamon a 27 anni di carcere. David si è presentato in aula solo per la sentenza non assistito a una sola udienza affermando che sarebbe stato troppo gravoso per la sua salute. Cinnamon è senza parole sbalordita aveva creduto a tutto ciò che suo padre gli aveva detto e solo in questo momento si rende conto di aver commesso un grave errore a fidarsi di lui. Intanto dovrà frequentare l'avventura school a Camarillo. Linda Brown invece viene cremata e le sue ceneri vengono sepolte alla base di una fontana nel Pasadena Memorial Park. David riscuote 835 mila dollari sulle pollizze assicurative sulla vita di Linda. Entro sei mesi si trasferisce, si lascia alle spalle la casa prese in affitto in cui sua moglie aveva esalato il suo ultimo respiro e acquista un immobile di lusso a Hanaheim Hills per 330 mila dollari in contanti. Si trasferisce lì con i suoi genitori, la cognata Patty e la figlia più piccola, Crystal. Adesso Manuela, sua madre che lui descriveva come crudele e che odiava più di chiunque altro, lo aiuta a prendersi cura della casa e di sua figlia Crystal. Manuela però pensa sia strano che l'adolescente Patty viva ancora con il figlio e chiede più volte a David perché lei non voglia tornare dalla sua famiglia, ma lui ignora la madre oppure le risponde di farsi gli affari suoi. Patty nella casa nuova ha una camera tutta sua e non occorre uno spirito di indagine arguto per capire che la ragazza ha preso il posto di sua sorella Linda nella vita di David. Jay Newell, il detective capo dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange, incaricato di indagare sull'omicidio di Linda, percepisce che qualcosa non torna in tutta questa faccenda. Sì, Cinnamon aveva confessato, era stata processata e condannata, ma il detective non riesce a lasciarsi alle spalle questo caso. C'è qualcosa che lo turba, che non lo fa stare tranquillo. I suoi sospetti ricadono su David, deve essere lui l'origine dei problemi in quella famiglia. Innanzitutto è assurda la scusa che ha usato per non presentarsi neanche a un'udienza del processo di sua figlia. Poi il suo comportamento dopo aver perso la moglie non era stato quello di un uomo addolorato, il lutto. Quando David si era degnato di apparire quantomeno alla sentenza di condanna di Cinnamon non si era comunque comportato in modo appropriato, considerata la gravità della situazione. La condotta della madre dell'imputata, Brenda, era stata nettamente diversa. Lei sì che aveva assistito a tutte le udienze. E quando David aveva fatto il suo unico ingresso in aula, si era seduto dietro la sua ex moglie, comportandosi come uno scolaretto ancora innamorato di lei. Le aveva tirato i capelli per tentare di attirare la sua attenzione, infastedendola. Dunque, esaminando l'atteggiamento inadeguato di David Brown, il detective Jay Newell decide di continuare a controllarlo di tanto in tanto. Col tempo i suoi dubbi vengono tutt'altro che fugati. Anzi, pensa che David potrebbe essere davvero coinvolto nell'omicidio di Linda. D'altronde, dopo la morte della moglie, aveva incassato un ingente risarcimento assicurativo e con quei soldi si era affrettato a comprare una casa costosa e diversi veicoli di lusso. Eh già, David pare divertirsi un mondo. In un'occasione, il detective si dirige nei pressi della nuova casa di David e nota che l'uomo e Patty, la sorella adolescente della defunta Linda, si stanno baciando appassionatamente. Intanto, Cinnamon è in prigione e non ha idea di quello che stia facendo suo padre. Lui la va a trovare occasionalmente e ha promesso di assumere qualcuno in grado di farla rilasciare. Una promessa rimasta sospesa nei meandri del tempo, dato che Cinnamon non ha più saputo alcuna novità. A seguito della condanna, David aveva pure suggerito a Cinnamon di rifiutarsi di partecipare a qualsiasi programma di consulenza o di terapia in prigione. Ovviamente questo consiglio il padre gliel'aveva dato per salvarsi la pelle. Non poteva certo rischiare che la figlia rivelasse a un consulente che lui era coinvolto nel crimine. Nel frattempo il detective Jay Newell scopre alcune informazioni di rilievo su David. Lui e la sorella della vittima dell'omicidio, Patty, si sono sposati segretamente a Las Vegas nel luglio 1986. Non l'hanno detto a nessuno, neanche ai genitori di David, che vivono in casa con lui e Patty. Patty però non vorrebbe più mantenere segreta la loro unione, dato che è pure incinta, ma il suo novello marito le spiega che la gente trarrebbe delle conclusioni affrettate, ipotizzando che avessero qualcosa a che fare con l'omicidio di Linda. Dunque non vi è altra scelta, devono nascondere la relazione. La figlia di Patty e David viene al mondo nel settembre 1987 e la chiamano Heather Nicole. David però non permette a Patty di registrarlo come il padre della bambina nel certificato di nascita. Racconta in giro che Patty si era innamorata di un ragazzo conosciuto da poco, il quale l'aveva messa incinta per poi abbandonarla e non farsi vedere mai più. Ma lui, David, che aveva un buon cuore, le aveva permesso generosamente di continuare a vivere nella sua casa insieme alla piccola Heather Nicole. Cinnamon invece è in prigione da ben tre anni quando scopre che suo padre aveva riscosso quei soldi dall'assicurazione sulla vita di Linda e viene a sapere anche che Patty vive ancora in casa con lui. Cinnamon aveva sempre sospettato che tra suo padre e Patty ci fosse del tenero. Una volta li aveva sorpresi a baciarsi quando i due pensavano che non ci fosse nessuno nei paraggi. David aveva cercato di convincere Cinnamon che Patty non significava niente per lui e gli aveva anche fatto giurare di non dire nulla a nessuno. Doveva tenere il segreto di quel bacio per sé. Insomma, ora Cinnamon sa che Patty, che aveva cospirato contro la sorella affinché venisse uccisa, vive nel lusso insieme a suo padre. Così la giovane detenuta si decide a confessare la verità. Il sesto senso del detective J. Newell su David Brown dà i suoi frutti. La sua pazienza nell'aspettare il momento giusto per parlare con Cinnamon viene ricompensata. Finalmente potrà portare David Brown in tribunale e poi in galera. Cinnamon riflette per ore e ore. Il piano di suo padre ha portato beneficio soltanto a lui e mentre lei marcisce nella cella di una prigione David ha sposato Patty e ha creato una nuova famiglia con lei. Patty ora ha tutto ciò che potesse desiderare. Una casa con piscina, tanti soldi, una bambina e un marito che le dà tutto ciò che vuole. Cinnamon incollerita ha consente così a parlare con l'investigatore J. Newell ed ecco che gli racconta cos'era veramente successo quella notte. Spiega come suo padre l'aveva scelta affinché fosse lei a sparare a Linda. David l'aveva convinta che sua moglie fosse una minaccia per tutta la famiglia e lei era giovane e ingenua per cui gli aveva creduto. Cinnamon rivela al detective che non era vero che Linda la odiava e neanche lei le voleva male, anzi l'era affezionata e la dolora che sia morta, che sua figlia Crystal non potrà crescere accanto a lei. Il detective crede alle parole di Cinnamon ma ha bisogno di prove concrete per accusare David di un crimine di tale portata. Così chiede alla detenuta se è disposta a indossare un microfono quando suo padre verrà a farle visita. La ragazza è nervosa ma consente quindi Newell le spiega che deve provare a indirizzare la conversazione affinché emerga il ruolo assunto da David nel complotto per l'omicidio di Linda. Il 13 agosto 1988 David va a trovare Cinnamon in prigione. Gli è permesso di incontrarla all'aperto così i due si siedono l'uno di fianco all'altra per terra sull'erba sotto un albero. Cinnamon indossa un microfono in modo che i detective possano ascoltare e registrare l'intera conversazione. Inizialmente tornando sull'argomento David ripete la solita bugia. Linda e suo fratello stavano complottando per ucciderlo con l'aiuto della mafia. Poi Cinnamon racconta ciò che ricorda della notte in cui Linda era stata ammazzata. Menziona anche delle pillole. Ma perché il padre gliele aveva date? Stava per farla morire. Non sapeva che era pericoloso che assumesse così tante pillole. David ammette che era stato lui a somministrarle quel cocktail di farmaci e Cinnamon lo spinge a parlare siccome non riesce a ricordare bene cosa fosse successo alla notte del delitto. David le ripete che ha un piano per farla rilasciare ma le dice che non può prendere il suo posto perché lui non riuscirebbe a sopravvivere in prigione. Al contrario avrebbe convinto Patty a confessare. E sì avete capito bene la sorella minore di Linda si sarebbe presa la colpa di tutto e Cinnamon sarebbe stata liberata. David in sostanza sta offrendo un altro agnello sacrificale per salvare il proprio fondoschiena. Ecco perché Patty diventa l'ennesima moglie usata e poi scartata per garantirgli il suo egoistico tornaconto. Se David non troverà una soluzione sarà disposto a far crescere un'altra delle sue figlie senza madre. Prima di salutare Cinnamon David le promette che verrà compatti in occasione della prossima visita così la figlia potrà parlare direttamente con lei. Chiaramente anche per questo secondo incontro che avviene due settimane dopo gli investigatori fanno indossare un microfono a Cinnamon. Inoltre le daranno istruzioni su cosa dire e quali domande porre tramite un auricolare. All'inizio David e Patty negano il resoconto di Cinnamon della notte dell'omicidio. Cercano nuovamente di manipolarla, di farle dubitare della propria memoria. Ma Cinnamon questa volta non si lascia raggirare. Appare spesso frustrata dalle loro bugie. Per fortuna diverse affermazioni di David e Patty confermano agli investigatori che loro due erano effettivamente coinvolti nella pianificazione dell'omicidio di Linda. Avevano incastrato Cinnamon convincendola a premere il grilletto ma agli occhi della legge. Loro sono altrettanto colpevoli della morte di Linda. Nello specifico a mettere in moto questi orribili eventi era stato David che aveva mentito su Linda dicendo a Cinnamon e a Patty che lei rappresentava una minaccia per la sua vita. Dopodiché David e Patty avevano convinto Cinnamon a ucciderla usando una pistola fornita da David. E dopo il primo colpo Patty aveva incoraggiato Cinnamon a tornare in quella camera per sparare a Linda una seconda volta. I detective ora hanno abbastanza prove per inchiodare la coppia al crimine. Tre settimane dopo la polizia bussa alla porta della casa di David Brown ad Anaheim Hills e arresta sia lui che Patty. Ora, secondo voi qual è la strategia che attua David per cercare di farla franca? Ovvio. Dà tutta la colpa a Patty negando di essere invischiato in quell'omicidio. Vi dirò di più. David afferma di essere terrorizzato da Patty. Era sempre stato convinto che fosse lei la vera assassina. Arriva addirittura a negare di avere una relazione con lei. Poco importa che abbiano messo al mondo una figlia insieme. I detective a questo punto recuperano i mangianastri e fanno partire una parte cruciale della conversazione registrata tra lui e Cinnamon. Quando David si rende conto che la polizia intende usare le sue stesse parole contro di lui, ammette di aver detto a sua figlia di addossarsi tutta la colpa del crimine. Ma l'aveva fatto solo perché aveva paura di Patty e della sua famiglia. David a quanto dice non credeva che le ragazze potessero davvero portare a termine l'omicidio. Tutte quelle chiacchiere su come uccidere Linda gli erano sembrate uno scherzo, un gioco. Quindi era rimasto scioccato quando sua moglie era stata realmente assassinata. Ma chi mai può credergli a questo punto? Nel settembre 1988 David Brown viene accusato dell'omicidio di Linda Bailey Brown e si dichiara non colpevole. Dopo aver valutato con estrema attenzione tutte le prove presentate dall'accusa, la giuria impiega meno di sette ore a condannare David Brown per omicidio di primo grado e cospirazione per commettere un omicidio. L'accusa era forzata anche dalle circostanze speciali perché il delitto era stato commesso a scopo di lucro. Anche Patty Bailey è stata accusata. Lei aveva 17 anni al momento dell'omicidio ma ha deciso di collaborare col procuratore distrettuale testimoniando al processo di David. Come accaduto a Cinnamon, Patty viene processata dal tribunale minorile, si dichiara colpevole di omicidio di primo grado e viene condannata alla detenzione fino al raggiungimento dei 25 anni. Dobbiamo però considerare che in questo momento Patty ha già 22 anni, mentre Cinnamon ormai ne ha 20. Tornando a David, il giudice lo condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, poi si rivolge direttamente all'imputato dicendo. Signor Brown, lei è una persona spaventosa. Guardi cosa ha fatto alle sue figlie e a sua cognata. Fa paura pensare che è stato in grado di manipolare delle persone per portarle a commettere un omicidio. Lei è un maestro della manipolazione e penso che le circostanze di questo caso siano incredibili. Non si è preoccupato di sua figlia, di sua cognata o di sua moglie. In confronto a lei, Charles Manson, è un novellino. Quanto a Cinnamon, mentre sconta la sua pena, completa gli studi della scuola superiore e frequenta dei corsi universitari conseguendo una laurea in arte. Poi, mentre è in carcere, lavora per oltre tre anni come impiegata addetta alle prenotazioni dei biglietti aerei. Nel 1992, dopo otto anni in prigione, Cinnamon viene rilasciata all'età di 21 anni. Torna nella contea di Orange e trascorre i suoi primi mesi di libertà con una famiglia affidataria. È ben voluto dall'investigatore Jane Ewell, la cui famiglia l'aiuta a reinserirsi nella società e Cinnamon rimarrà sempre grata a tutti per il loro sostegno. Nel 1994, Cinnamon si sposa e la sua libertà vigilata termina l'anno successivo. Lavora nel settore dei viaggi accetta la maggior parte delle interviste. Esprime un profondo rimorso per l'omicidio dicendo mi vergogno tanto di quello che ho fatto a Linda. È molto doloroso sapere che le ho tolto la vita e che non avrà mai più una possibilità. Ho pianto e pregato per lei spesso perché le volevo molto bene e credevo a mio padre. Questo è ciò che mi fa male più di ogni altra cosa. Patty, come previsto, viene rilasciata dalla prigione a 25 anni, un anno dopo Cinnamon, e ha scontato la sua pena nella stessa struttura dove era incarcerata lei. A dirla tutta, per un periodo, Cinnamon e Patty sono state anche compagne di Cella. Dopo il rilascio, Patty cambia nome, si sposa e tenta di ottenere la custodia di sua figlia Heather. Riuscendoci. Nel 1994 dà la luce due gemelli e tenta di entrare in contatto con Cinnamon, la quale però rifiuta, dicendole che non è pronta, vuole solo concentrarsi sul proprio reinserimento nella società. David, dopo l'arresto, non ha più provato a comunicare con sua figlia Cinnamon, mentre Patty ha ricevuto delle lettere da lui quasi ogni giorno. Dopo che David è andato in prigione, Crystal è stata mandata a vivere con i genitori di David. La ragazza rimane a vivere con i nonni. Pensate che David ha pure negato che Heather è sua figlia. Assunto dei professionisti per gestire la sua azienda, continuando a ricevere profitti mentre è in prigione. David Brown muore in carcere nel 2014 per cause naturali a 61 anni. Arriviamo alle conclusioni di questo caso. Le storie di manipolazione mi colpiscono sempre perché le considero al limite dell'assurdo. David Brown, e immagino che converrete con me, era un uomo disgustoso, ha manipolato delle ragazzine affinché uccidessero sua moglie. Tutto per avere una partner più giovane al suo fianco e per ottenere del denaro. Mi chiedo come abbia potuto ingannare e usare in quel modo sua figlia, Cinnamon. Per di più, quando hanno accertato che la bambina di Patty è anche figlia sua, lui ha continuato a negare la paternità. Mi chiedo come stia oggi Heather e anche come stia Crystal, a cui David ha ucciso la mamma. Chiaramente un'altra colpa di David è quella di essere un predatore di ragazzine. Aveva iniziato a flirtare con Pam, un adolescente di soli 15 anni, per poi conquistare sua sorella minore Linda, che ne aveva addirittura 13. Insomma, David si era avvicinato a Pam unicamente per ingannare il tempo, in attesa che Linda raggiungesse l'età da lui desiderata. Ma poi, quando anche Linda aveva smesso di soddisfarlo, aveva gradualmente messo in testa a Patty e a Cinnamon, l'idea che sua moglie fosse un pericolo. Conosciamo la sua bugia. Linda aveva in programma di ucciderlo per impossessarsi della sua azienda perché lei e suo fratello Alan avevano contatti con la mafia. Vi leggo una frase che ha pronunciato Alan Bailey, il gemello di Linda, durante un'intervista. David è sempre stato un tipo a cui piacevano le ragazze più piccole, anzi, delle bambine. Bambine e soldi erano i suoi interessi principali, ciò che cercava sempre. Onestamente concordo con lui, David era un uomo adulto che trovava attraente una tredicenne. Il mio ultimo pensiero va chiaramente alla principale vittima di questo caso, Linda, ma spero anche che Patty e Cinnamon abbiano ricevuto tutto l'aiuto necessario per affrontare i traumi che David, questo essere disgustoso, ha provocato in loro. E soprattutto mi auguro che le figlie minori di David riescano, nonostante tutto, a vivere una vita serena ed equilibrata. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Fatemi ovviamente sapere quali sono le vostre opinioni riguardo a questo caso e fatemi sapere se lo conoscevate già. Io non lo conoscevo e mi ha stupita davvero tanto. Come vi ho detto poco fa, le storie di manipolazione sono quelle che mi stupiscono di più e mi lasciano abbastanza sconvolta. Ci penso per tanto tempo anche dopo aver registrato il video. Detto questo, fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, scrivete le vostre idee, le vostre opinioni e io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!